Lavoro come manutentore e paesaggista da sempre, sono Claudio Campanini e la mia vita si chiama Il Patio Florido. Uso i prodotti ICL da vent'anni. Sono prodotti che mi hanno aiutato a risolvere vari problemi, anzi posso dire che ho aumentato la resa e la qualità del mio lavoro. Prendiamo ad esempio i concimi con tecnologia. Chi se ne intende poco potrebbe concentrarsi su altri parametri, mentre io suggerisco sempre di guardare la resa al metro quadro. Metti la tecnologia Polies di ICL. Quando il concime ti garantisce alta qualità del risultato e ti permette di usare meno grammi al metro quadro hai già un risparmio. Nella mia esperienza poi ho visto che un concime con tecnologia permette risparmi anche ad altri livelli. Ad esempio c'è un risparmio di tempo anche perché la sua durata ti permette davvero di uscire meno volte per stagione. Io uso una volta Sierra Blend 8-9 mesi a cui faccio sempre seguire una concimazione pre-invernale. Personalmente ho anche riscontrato che la crisi di un tappeto erboso trattato con tecnologia Polies è più regolare e bilanciata. Questo significa meno tempo dedicato al taglio, meno residui di sfalcio da smaltire. Un altro risparmio, se vogliamo metterla così, è il risparmio di inquinamento. Con incessione controllata tutto quel che il concime rilascia è assorbito e non dilava perché i nutrienti diventano disponibili secondo una cura ben precisa pensata da chi produce concime proprio per adeguarsi ai bisogni dell'erba. Ho anche seguito dei seminari dove divulgavano i risultati di test condotti da Università italiane. È provato che i tappeti erbosi trattati con la cessione controllata Polies risultano meno suscettibili alle malattie. Infatti mi sono accorto che uso meno fungicidi. Per farla breve, con i concimi a tecnologia cessione controllata ho visto che risparmio prodotto meno grammi al metro quadro, tempo esco di meno, tagli non ci sono picchi di crescita e inquinamento c'è meno dilavamento e uso meno agrofarmaci. Detto questo mi permetto un'aggiunta finale. Di sicuro sono meglio i prodotti con tecnologia rispetto ai convenzionali ma vanno scelti in cessione controllata di migliore qualità perché non tutte le tecnologie sono uguali. Io mi sono affidato a chi la cessione controllata l'ha inventata.